Se son rose, fioriranno. Se sono spine, pungeranno. Un proverbio italiano, popolare, noto a tutti. Soprattutto è conosciuta la prima parte. Se son rose, fioriranno. È un proverbio che si cita con l'intento di incoraggiare il proseguimento di un lavoro o di un progetto di cui il buon esito è condizionato dalla buona sorte o da logiche ed eventi che al momento non è possibile prevedere. Questo proverbio non è un proverbio evangelico perché l'amore, quello vero, è sempre un fiore che fiorirà con le spine. L'amore autentico è un fiore che fiorirà e anche pungerà. Gesù ha moltiplicato i pani, ha camminato sulle acque e a Cafarnao, nella sinagoga, si fa conoscere per quello che è. Non ti tolgo le spine, non ti risolvo i problemi, non ti tolgo le malattie e le ingiustizie. Non ti converto tuo marito, non ti cambio tua moglie, non ti faccio vincere la lotteria, non ti tolgo i problemi. Sono Dio e sono così. Questo è il momento per mostrarti la mia vera identità, mostrarti chi sono veramente. E se per te è uno shock conoscermi per quello che sono, è un trauma che ti fa crescere. Sono Dio misericordioso, Dio dell'amore incondizionato. Sono pane, agnello immolato e chi mangia di me, del mio amore, si trasforma in me. E impara ad amare dentro le sofferenze, le malattie, le ingiustizie, con il perdono, dentro i problemi e le spine della vita. Questa rivelazione produce scandalo, fa inciampare e cadere. Questa parola è troppo dura. Non esiste il ragazzo, la ragazza giusta. Esiste il ragazzo che scelgo di amare come lo ama Gesù. Esiste la ragazza che scelgo di amare come la ama Gesù. Non esiste il convento giusto per me. Esiste il convento in cui posso amare come Gesù, con tutte le spine che la vita consacrata include. È proprio quando scopri chi è veramente Gesù che inizia a dire il tuo sì maturo dalla fede e vivi la tua vocazione impugnando e prendendoti cura di una rosa che ha le spine. C'è chi dice di no e chi preferisce ricercare le rose senza spine, che non troverà mai. Gesù sa chi lo tradisce, conosce chi non crede. Non basta dire di sì una volta, è bene dirlo tutti i giorni. È bene avere i piedi per terra con gli occhi rivolti verso il cielo e fare nostre le parole di Pietro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.